I problemi al cuore prima c'erano, poi erano stati negati e ora sembrano di nuovo confermati. Proseguono le indagini sulla tragedia dell'autobus precipitato a Mestre con la morte di 22 persone. L'autista Alberto Rizzotto avrebbe avuto un'anomalia cardiaca. Di possibili patologie legate al cuore si era già parlato nell'immediatezza del fatto, poi era arrivata la smentita del legale della famiglia. Il bus elettrico stava percorrendo il cavalcavia della Bretella in direzione Marghera all'autostrada 4, ha sfondato il guardrail, precipitando vicino ai binari della stazione. Le videocamere di sorveglianza avevano ripreso il momento in cui l'autobus era precipitato. Nel video si intravede il pullman, un mezzo pesante, elettrico, rallentare e sobbalzare, quasi come dopo aver toccato qualcosa lungo la strada. Forse il primo impatto con il guardrail che in quel punto presentava un'interruzione a spiegare la tragedia. Si vedono le luci del freno accendersi, il bus è quasi fermo quando sfonda il guardrail e precipita. Come ha riferito anche il procuratore Bruno Chirchi, non risultano segni di frenata sull'asfalto. Sembra invece confermato che l'impatto del pullman sia avvenuto una cinquantina di metri prima della rottura del guardrail e della caduta. Le indagini si sono concentrate su vari aspetti, dalle condizioni dell'autobus elettrico in corso delle perizie tecniche, le condizioni dell'asfalto e del cavalcavia e chiaramente anche le condizioni di salute dell'autista. Una delle ipotesi rimane quella del malore. La seconda consulenza medico-legale sulle condizioni di Rizzotto solleva infatti numerosi dubbi. Secondo i periti c'era un'anomalia nel tessuto cardiaco dell'uomo. Non è ancora possibile stabilire se possa esserci un nesso con l'incidente. Il procuratore che segue l'inchiesta ha ordinato nuovi esami per approfondire la questione. Il tema del cuore sarà al centro di una guerra legale e anche tecnica. Da una parte la famiglia dell'autista, dall'altra la società alla linea, il suo amministratore delegato Massimo Fiorese, indagato, e anche la compagnia assicurativa Allianz. È una questione certamente anche economica in caso di malore del conducente. La compagnia Allianz infatti potrebbe essere esentata dal pagamento dei danni alle vittime. Sarebbe esclusa in questa ipotesi un'anomalia tecnica dell'autobus elettrico di una tipologia che, come avevamo già mostrato, aveva dato alcuni problemi in altri paesi. Il tessuto cardiaco di Rizzotto era danneggiato. Questo sembra uscire confermato dalla patologa Basso, a cui il PM Cameli ha affidato l'incarico. Ci sarà una nuova seduta il 21 di dicembre per esami più approfonditi. L'ipotesi del malore prende sempre più campo. Entro il 10 gennaio la professoressa Basso dovrà depositare una nuova relazione. Alcuni organi di stampa avevano anche raccontato che l'autista si era iscritto a un gruppo Facebook nel quale i componenti discutevano dei loro problemi derivanti dall'assunzione del famigerato prodotto. Si era iscritto per semplice curiosità a questo gruppo Facebook o forse era cosciente di avere qualche problema e cercava possibili collegamenti con quel tipo di prodotto. I consulenti della famiglia, il medico legale Roberto Rondolini e anche chi viene considerato il luminare delle malattie improvvise, Gaetano Tiene, avrebbe escluso episodi organici acuti tali da causare una perdita di coscienza. C'è poi, come detto, la consulenza meccanica sull'autobus. Martedì scorso il primo sopralluogo. I vari tecnici delle parti hanno potuto vedere il bus sotto sequestro a Mestre nella stessa posizione a testa in giù in cui era caduto in quella tragica notte. I consulenti della procura hanno prelevato la barra dello sterzo che collega la ruota anteriore sinistra a quella destra. I due perni, uno rotto e uno integro. La ruota davanti destra è piegata verso l'esterno. Il PM ha chiesto ai consulenti di dire se questo sia avvenuto a causa di qualche anomalia come un cedimento strutturale. In seguito ai ripetuti colpi sul guardrail sembra invece escluso che il danno sia stato causato dalla caduta proprio perché è avvenuta sul lato destro. Ancora poi accertamenti riguarderanno le telecamere interne la famosa scatola nera. La domanda principale rimane sempre quella. La sbandata è stata dovuta al malore dell'autista e quei problemi di cuore. A cosa erano dovuti? E quanti pericoli ogni giorno possiamo vivere sulle strade quando in modo improvviso e silente potrebbe scattare in chi guida uno dei tanti malori improvvisi?